Salve a tutti ragazzi, sono Alphagamer e oggi ci troviamo in un altro contesto, non faccio un let's play perché ho dei problemi con Minecraft, comunque sto quasi risolvendo, provvederò al più presto a fare un altro let's play molto utile. Allora, oggi siamo con Game Booster, Game Booster è un programma molto utile che ci potrà servire, che serve, che ci potrà servire in seguito a velocizzare il nostro gioco nel senso di farlo andare più fluido e non farlo laggare, almeno nella maggior parte dei casi. Come nel mio caso, Call of Duty Black Ops per dire, mi lagga tantissimo, è che un Game Booster sto quasi risolvendo, ho quasi risolto, perché è proprio un problema di lag, di incompatibilità con processore, mi sa scheda video, non mi ricordo. Vabbè, comunque andiamo avanti, è un programma molto semplice da usare, in italiano, e lo potremo scaricare da Softonic, anche se il file sarà scaricato da un sito esterno, perché comunque c'è la prassi, dai. E in italiano, vabbè, non c'è bisogno che ve lo ripeto, e funziona così, basterà cliccare su uno di questi giochi, io per esempio, Call of Duty Black Ops, il single player, faccio boost e lancia, clicco qui. Il boost sarebbe, cancella quasi tutta la RAM, infatti se avete dei programmi aperti, come qualche documento o roba varia, chiudeteli, salvate prima. È un programma molto utile comunque, perché ci serve a far andare più veloce il nostro gioco, senza farlo laggare, se lagga proprio di pochissimo. E niente, quindi è un'utility per giochi, infatti lo dice pure qui. Allora, vabbè, il link per il download ve lo metterò in descrizione, se il link non dovesse funzionare, cercate Game Booster 3 su Softonic, anche direttamente da Google fate download Softonic. E niente, è molto facile da usare, non c'è bisogno che vi stia a spiegare tantissimo. Allora, se non dovesse funzionare nel link, ruba da matti, il link è game-booster.softonic.it, lo trovate qui nella mia barra degli indirizzi. E niente, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi. Alla prossima, ciao ragazzi da AlphaGamer. Allora, ciao